Siamo con Irene Lamanna, Presidente dell'Associazione Taranto Turismo. L'estate ormai è alle porte, però resta un rebus il Piano delle Coste. Da parte dell'amministrazione comunale non sembrano esserci risposte. Purtroppo è vero, purtroppo non abbiamo ancora notizie sul Piano delle Coste. Ci sono fatte tantissime riunioni, come è solito fare, tra gli assessori del nostro Comune. Hanno parlato di programmazione, di avvio del Piano delle Coste, di apertura di spiagge, di lottizzazioni. Però, purtroppo, siamo alle porte dell'estate e ancora non abbiamo nulla. Noi da sempre ci occupiamo di turismo. L'Associazione Taranto Turismo si occupa della pianificazione del territorio, del marketing, della comunicazione. Però è importante definire un Piano delle Coste che non sia solo pugliese, ovviamente, ma che vada a riguardare, in particolare, il nostro territorio. Chiediamo ai due assessori preposti che hanno preso a cuore questa situazione del Piano Coste e che al rimbalzo, se la sono parlata prima l'uno o poi l'altro, quali intenzioni hanno per quest'estate 2016. Nel frattempo le nostre coste sono quelle che vediamo alle spalle.